Devo dire una cosa importante, fondamentale, culturale. Voglio parlare delle discoteche. Escoteche, bello, discoteche. Spoggia le mani! Girati! Girati! Scusa, avevo capito male, scusa. Hai capito male? Sì! Bene. Dica! Girati! Girati, ci ho girato. Fermo! Fermo, sono fermo, più fermo che così. Ma come si fa a conoscere le donne in discoteca? Come si fa a conoscere le donne? Capo, vai in discoteca, entri dentro la discoteca, come metti i piedi... Aspetta. Come metti i piedi dentro la discoteca? Spoggia le mani! Mi piaceva questo pezzo. Vedi una che ti piace? Ciao, che mi calcio? Pudulo, 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 ma vaffanculo, va! È vero. Poggia ti con le mani! Sono appoggiato, guardi, sono appoggiato. È difficile. Vai al bar, vai al bar, cerchi di bere una cosa, c'hai 15 mila lire di consumazione, ci vuole... Pud, 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 ce l'hai un gin, pud, un gin, pud, un gin, pud, un gin, pud, un gin, pud. L'acqua, l'acqua, ce l'hai l'acqua. Un bicchiere d'acqua, 15 mila lire. Cazzo, me l'ha portato da casa. L'acqua, mi rappoggia le mani! Io ho conosciuto una donna sola in vita mia, in discoteca, una, la figlia di un ammiraglio. Io ho fatto i militari in marina, ero avvantaggiato, in mezzo a sto casino... Mi sono avvicinato a lei e sulla sua spalla. L'alfabeto Morse! Stai con l'occhio vetrato, vai! State calmi adesso, lo volevo dire, l'ho detto, è uno sfogo mio personale. Non mi seguite che sono armato, state calmi! Scusa, scusa, ma che c'hai dentro lì, scusa, posso saperlo? È un calzettone sporco. Non mi seguite che mi ammazzo, eh! È un calzettone sporco, ecco!